Gli Stati Uniti hanno costretto la Cina a chiudere il consolato di Houston, considerato una struttura di spionaggio cinese. Secondo l'accusa, i funzionari erano in contatto con un istituto di ricerca del Texas e guidavano gli analisti su quali informazioni raccogliere. Per gli agenti federali facevano parte di una rete presente in oltre 25 città, supportata dai diplomatici. In queste immagini vedete la polizia che entra nella struttura. In risposta, la Cina ha chiesto agli Stati Uniti di chiudere il consolato a Chengdu, un punto strategico perché consente di raccogliere informazioni sulla regione autonoma del Tibet, oltre che un'area che si sta sviluppando rapidamente e offre opportunità per l'esportazione di prodotti agricoli, automobili e macchinari. La tensione tra Cina e Stati Uniti è arrivata a livelli mai visti prima. Grazie.